Cosa ha significato per voi oggi venire qui e come avete ritrovato questa Villa Maria? L'abbiamo ritrovata come la ricordavamo ma l'abbiamo ritrovata meglio perché è ancora più bella e oggi devo dire che ho litigato con mio padre perché non la cedesse e invece aveva ragione io gli ho detto le cose pubbliche sono di nessuno finirà in rovina e invece no questo sindaco, questo consiglio comunale e chi l'ha preceduto mi ha fatto una cosa veramente bella Quindi siete soddisfatte? E quindi sono soddisfatta e ancora una volta mio padre ha avuto ragione